E la mostra del tartufo più longeva delle Marche è la seconda in Italia dopo quella piemontese di Alba. Quello che è certo che la mostra nazionale del tartufo bianco di Sant'Angelo in Vado porta divinamente i suoi 61 anni e superato l'anniversario a cifra tonda di 12 mesi fa è pronto a riproporsi con un'altra proposta di alta qualità miscelata fra inogastronomia, cultura, grandi ospiti e i consueti premi del tartufo d'oro. Si parte il 12 ottobre con il primo di tre weekend del mese per sette giornate che confluiranno nella chiusura del 3 novembre con la fiera merceologica. Gli appuntamenti sono il primo weekend, ci sarà l'inaugurazione con la ormai consolidata dall'anno scorso, visto il successo, la frittatona al tartufo. Il primo weekend quindi sarà all'insegna di nonogastronomia e avremo un importante personaggio che fa parte del mondo ristorativo e dell'antico vinaio. Il secondo weekend avremo il classico motoraduno internazionale che è arrivato alla 46esima edizione, quindi quel weekend lì sarà un weekend dedicato allo sport dei motori, venerdì, sabato e domenica e poi chiuderemo il terzo weekend del tartufo con personaggi particolari che hanno avuto una rilevanza particolare di stampo marchigiano. Ecco, ci preme premiare, dare un lustro ai soggetti che hanno apportato valore alla nostra regione. Una mostra di Sant'Angelo Invado che si inserisce in un periodo di cerca del tartufo inaugurato il primo ottobre e che proseguirà fino al 15 gennaio. La stagione sembra cominciata abbastanza bene, il prodotto c'è abbastanza, adesso non in quantità esagerate, però c'è abbastanza, ma soprattutto di ottima qualità, quindi i cercatori e anche i commercianti vedono una buona stagione che si approssima. Prezzi abbastanza al momento cari, perché chiaramente come tutti i prodotti la prima, la stagionalità, le primizie sono sempre quelle più care, considerate che ai cavatori viene remunerato circa 1.500 euro al chilo, ai cavatori, poi chiaramente dipende dalle pezzature, dipende dai tagli, però come prodotto finito al commercio, al consumatore finale saremo intorno ai 2.500-3.000 euro al chilo. Grazie a tutti.